Le amministrative sono molto differenti dalle politiche, ogni comune ha una storia a sé, dipende dai candidati, mi sembra che quello che emerge è che il Movimento 5 Stelle non avanza, ha avuto un arretramento forte, il risultato a Roma dei due municipi è significativo ma non solo, anche nelle altre città vanno meglio tendenzialmente civiche, il centrodestra e il centrosinistra, noi aspettiamo questo governo alla prova dei fatti, a cui garantiremo il massimo della cooperazione istituzionale, ma se fanno cose non potabili politicamente marcheremo le giuste distanze da questo governo che finora di fatti non ha fatto nulla, anzi i primi fatti sono esattamente quelli di cui stiamo discutendo adesso. La mia posizione è di cooperare istituzionalmente con il governo e siamo un'esperienza politicamente autonoma, quindi quando ci sono cose che si fanno che non ci piacciono, quando ci sono cose che non si fanno, noi lo diciamo chiaramente, non è che perché dall'altra parte c'è un governo, noi abbiamo un atteggiamento di timore referenziale, Napoli è un laboratorio politico, è una città autonoma, è diventata capitale di tante cose, dei beni comuni, dell'onestà non a chiacchiere ma con i fatti, capitale della cultura e del turismo, dei talenti, dell'energia e anche di mettere l'amore al posto del rancore, quindi siamo alternativi politicamente a questo governo, non ci accomuna nulla politicamente al governo delle destre di Di Maio e Salvini. Detto questo io non vedo l'ora di cooperare istituzionalmente col governo sui fatti, parliamo di autonomie, parliamo di sicurezza, parliamo delle città, parliamo dei territori, parliamo del mezzogiorno, è finita la campagna elettorale, mentre Salvini salta da un talk show all'altro, noi stiamo in frontiera, stiamo in prima linea, siamo senza soldi, siamo senza la possibilità di dare le risposte che vorremmo perché finora segnali di cambiamento del governo del cambiamento e del governo che ha fatto la storia non c'è ancora, l'unico elemento di storia che hanno fatto stanno per far morire donne e bambini nel mar Mediterraneo, questa è la storia che stanno scrivendo in queste cose, complimenti.